Restano stazionare le condizioni di salute di Lucia Nibali, l'avvocatessa 35enne di Urbino, sfigurata con dell'acido mentre si apprestava a far rientro a casa. Un episodio efferato, come l'ha definito la GIP, che si è consumato con i favori delle tenebre martedì scorso in Via Rosse a Pesaro e che ora vede in carcere come mandante il suo ex, un altro avvocato, Luca Varani, di 35 anni, pesarese ma che fa parte dell'ordine di Rimini. Varani, fin dai primi momenti, ha sostenuto la sua completa estranità ai fatti a lui addebitati, ma i carabinieri sono invece convinti che dallo stalking per la fine della relazione decisa dalla ragazza, l'avvocato si è passato alla vendetta, soldando due sicari albanesi al momento ricercati. A fare il nome di Luca Varani è stata la stessa donna poco dopo che si era consumata l'assurda vicenda. Luca in quei terribili istanti se ne stava tranquilla a giocare a calcio con alcuni compagni, un alibi di ferro che non avrebbe però convinto il giudice per le indagini preliminari che ha confermato l'arresto e dunque tenuto Varani in carcere. Lucia Nibali, la 35enne vittima dell'agguato con l'acido, resta ricoverata a Parma in condizioni ancora piuttosto serie. Risca di perdere la vista, ma la sua testimonianza è fondamentale per risolvere quello che i più ancora sembra un vero rompicapo. Verrà sentita dai magistrati non prima di aver ricevuto il via libera dei medici emiliani, consenso all'interrogatorio che, visto il quadro clinico della donna, difficilmente arriverà nei prossimi giorni.